Buongiorno a tutti. In questo e nei prossimi due video affrontiamo insieme un esercizio che utilizza le Fetch API per consumare le API REST che abbiamo realizzato la settimana scorsa. In particolare avremo tre video. Nel primo, quello che state vedendo, vi presenterò una panoramica del progetto di partenza che è molto semplice ed è molto simile a quello che abbiamo fatto finora, agli esercizi che abbiamo fatto finora con qualche piccola aggiunta e vedremo qual è il primo vantaggio, quali sono le prime cose che possiamo fare dato che passiamo da un client servito da file, quindi da un percorso sul computer facendo doppio clic sull'index HTML, a lo stesso client che però viene servito dallo stesso server che serve anche le API REST che abbiamo realizzato la settimana scorsa. Nel secondo video invece inizieremo ad applicare Fetch, quindi modificheremo questo client che come prima, come fino a due settimane fa è statico, le informazioni sono finte, sono inserite direttamente nel JavaScript del client in modo da effettivamente per esempio prendere questo elenco di esami dal server REST, che a sua volta lo prende dal database, e anche creare un nuovo esame in modo da usare la post del server REST che abbiamo realizzato la settimana scorsa. Nel secondo video pertanto inizieremo a portare questo client utilizzando le Fetch API per consumare le API REST realizzate appunto la settimana scorsa. Nel terzo video infine vi racconterò la versione finale di questo esercizio, mentre nel secondo faremo insieme passo passo le modifiche per passare dall'interfaccia statica che vediamo ora a un'interfaccia che prende i dati dal server. Nel terzo esercizio vi farò solo una descrizione e vi farò vedere le parti principali delle altre modifiche che sono state fatte. In particolare nel secondo video useremo la Fetch per recuperare questa tabella, mentre nel terzo video vi mostrerò la Fetch e le modifiche e al codice per la creazione di un nuovo esame. Ma partiamo da il progetto attuale. Il progetto attuale, se lo guardiamo in Viso Studio Code, è essenzialmente l'unione del progetto della settimana scorsa, quindi il nostro server, REST, come abbiamo realizzato la settimana scorsa, e all'interno di una cartella, che ho chiamato Public, ma il nome è a vostra scelta, un'applicazione web client, totalmente quindi statica, HTML, CSS e JavaScript, che è un'evoluzione di quella che abbiamo realizzato due settimane fa. Quindi in questo momento abbiamo un progetto, lo stesso progetto della settimana scorsa, del server.javascript, in cui ho aggiunto una cartella, Public, e all'interno di quella cartella ho aggiunto una versione aggiornata dello stesso client web che abbiamo fatto come esercizio due settimane fa. In particolare sul browser potete vedere questa versione aggiornata. Questa pagina non è ancora fornita dal server, ma è solo aperta direttamente cliccando su Index.html, come abbiamo fatto appunto fino a due settimane fa. Quali sono le modifiche fatte a questa pagina, a questo client, rispetto a due settimane fa? Come vedete continua a esserci la tabella con gli esami, con la data, il nome dell'esame, i crediti e il voto. Continua a esserci la tabella e il filtro, che filtra gli esami per anno, tutti, il 2020 al 2019, e in più c'è un bottone Nuovo esame che permette appunto di aggiungere un nuovo esame a questa tabella. Premendo il bottone Nuovo esame, in maniera simile a quello che capita per il vostro laboratorio, compare un modale con un form. Questo modale vi permette di selezionare un corso, tra alcuni corsi a scelta, che voi avete, ovviamente, ipotizziamo nel carico didattico, vi permette di leggere quanti crediti sono quel corso, non modificarlo perché il numero di crediti non è un'opzione a vostra scelta, un corso avrà un determinato credito, un determinato numero di crediti, vi permetterà poi di inserire un voto, che deve essere numerico, se io provo in questo momento, sto scrivendo A, vedete, non succede niente, un voto che deve essere compreso, per poter registrare un esame, tra il 18 e il 30, il 31 anzi, in questo caso, ipotizzando che una lode possa essere memorizzata come 31. Infine, la data, nel formato giorno, mese, anno, che è anche selezionabile in Chrome, soprattutto da questo menu, da questo calendario, ma anche digitabile direttamente nel campo. Quindi, per esempio, proviamo a aggiungere un nuovo esame, proviamo ad aggiungere metodologie di programmazione per il web. Vedete che selezionando metodologie di programmazione per il web, si è riempito automaticamente il numero di crediti associato al corso. Diciamo che abbiamo preso un voto, 25, e l'abbiamo sostenuto l'esame il 18 maggio del 2020. Se io premo salva, questo esame viene inserito in questa tabella. Se io, per esempio, invece di 25, scrivessi 16 e premessi salva, il browser mi dice che il valore deve essere più grande o uguale a 18. Allo stesso modo, se io scrivo 50 e premo salva, il browser mi dice che il valore deve essere minore o uguale a 31. Quindi questa validazione, che è molto simile a quella che avete già visto e applicato due settimane fa nei laboratori, funziona. Quindi rimettiamo 25 e premiamo salva. Vedete che premendo salva il form sparisce e effettivamente compare una nuova riga nella nostra tabella che rappresenta metodologie di programmazione per il web con un determinato voto, il suo numero di crediti e la data di superamento dell'esame. Ovviamente, dato che questo non è memorizzato in maniera persistente da nessuna parte, appena clicco, ovviamente i dati filtri continuano a funzionare perché utilizzano questa stessa tabella, ma appena ricarico la pagina, metodologia di programmazione sparisce e non è più disponibile da nessuna parte. Quindi, essenzialmente, la modifica è grossa è stata l'aggiunta di questo bottone. Dove è stato aggiunto questo bottone? Questo bottone è ovviamente stato aggiunto nel file app.js che, come ricorderete, è quello che gestisce la pagina principale di questa applicazione. In particolare, è stato aggiunto nell'HTML il form, il modale col bottone, e questa è la parte relativamente facile. Ovviamente, utilizziamo Bootstrap, quindi il modale di default è disattivato, appena premiamo il bottone a nuovo esame, il modale appare e appena premiamo salva, o la x, il modale deve sparire. Quindi, che cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto un... Beh, abbiamo recuperato l'ID del form, del modale nascosto, e abbiamo aggiunto un metodo che serve per inizializzare il form. Cosa vuol dire inizializzare il form? Inizializzare il form vuol dire per noi due cose. La prima, recuperare da un metodo che è stato creato in exam manager, i corsi. Quali corsi? I corsi che appaiono in questo menu a tendina. Idealmente, i corsi di cui non abbiamo ancora sostenuto l'esame, idealmente, ma potremmo anche avere tutti i corsi. Ovviamente, se inserissimo un esame già presente in tabella, dovremmo ottenere un errore. Quindi, l'inizializzazione del form consiste nel riempire questa tendina con questo metodo. Poi, abbiamo un event listener sull'event change, sempre di questo menu a tendina. Che cosa fa questo event listener? Questo event listener, quando si seleziona un corso, cambia il numero di crediti riportato in questo secondo campo. In questo caso, sia il reti 1 che i metodologie hanno 6 crediti, quindi l'effetto di questo cambio non è evidente, ma selezionando, se ci fosse un corso con più crediti, ovviamente questo numero cambierebbe. Infine, agganciamo all'evento di submit, all'evento di questo bottone, una callback, che cosa fa questa callback? In maniera analoga a quello che avete fatto voi due laboratori fa. Prende il form, controlla la validità del form, in questo caso crea un nuovo esame, un nuovo oggetto esame, con i valori che sono disponibili nel form. Quindi il codice del corso, il nome del corso, i crediti, la data e il voto. A quel punto, utilizzando un nuovo metodo di exam manager, ad exam aggiunge quest'esame all'elenco degli esami superati, recupera quest'elenco degli esami superati, e aggiorna questa interfaccia web e chiude, resetta il form e chiude il modale. Esattamente come appunto dovreste aver fatto voi per gestire il form due settimane fa. Cosa fanno questi due metodi nuovi che abbiamo introdotto? Allora, questo getPastEsam essenzialmente è lo stesso metodo che prima si chiamava buildMyEsam. prende l'elenco degli esami e li restituisce. Il metodo aggiunge esami, vedete, è molto semplice. Aggiunge l'esame, l'oggetto esame passato come parametro, a questo array di esami. GetCourses, altro metodo molto semplice, ritorna un array di oggetti JavaScript, in questo caso non di esami, ma di oggetti JavaScript con alcune proprietà tipiche dei corsi. Il nome, il codice e i crediti. In questo caso sono i due corsi che appaiono appunto in questo menu a tendina. Una scelta diversa poteva essere quella di creare una classe corso, esattamente come abbiamo una classe esame, che rappresenti le proprietà di un singolo corso. Nel nostro caso, dato che questo ci serve essenzialmente per riempire il menu a tendina, può essere un compromesso ragionevole utilizzare direttamente un oggetto JavaScript normale, quindi senza costruirgli intorno una classe. Questi sono quindi i metodi nuovi che abbiamo aggiunto. Un'altra cosa, un'altra modifica, è stata l'aggiunta di un codice al nostro esame. In questo momento il nostro esame, oltre ad avere un identificativo, ha un codice, un nome, i crediti, la data e lo score. Quindi tutte le informazioni, e il voto, quindi tutte le informazioni visibili qui, più il codice del corso, che è in realtà l'elemento univoco di questi esami. Ed è il punto di contatto tra gli esami e i corsi. Quindi questa è la nostra interfaccia web. L'altra modifica che c'è in questo progetto di partenza, al di là ovviamente della creazione della cartella public e dell'inserimento di questa intera applicazione web all'interno di questa cartella, è una piccola modifica al nostro server.javascript. E questa piccola modifica è in realtà data da queste due righe. The public component è data da queste due righe. La prima dice usa, quando vengono lanciato, serve appunto javascript, un middleware di express che si chiama static che serve appunto a pubblicare delle pagine statiche. Quindi diciamo con questa riga express che nella cartella public lui troverà, quando verrà lanciato il server, appunto questo file server.javascript, troverà i file che saranno da servire staticamente, quindi senza il bisogno di essere manipolati dal server. E guarda caso, nella cartella public abbiamo esattamente messo la nostra applicazione che come abbiamo visto in questo momento lanciandola col doppio clic dal computer comunque funziona, quindi può essere servita staticamente perché è totalmente indipendente per la parte di renderizzazione, per esempio, da il server. La seconda cosa che abbiamo fatto è quello di dire a express che non vogliamo tutte le volte scrivere localhost 2.3000 slash index.html per recuperare questa pagina, ma va benissimo se scriviamo localhost 2.3000 e express si preoccupa di fare il redirect alla pagina corretta di index.html pagina che noi riusciamo a recuperare direttamente con lo slash perché abbiamo detto che tutto quello che è nella cartella public deve comunque essere disponibile direttamente nella root. Quindi lanciamo a questo punto express sempre come abbiamo fatto la settimana scorsa e a questo punto andiamo alla pagina localhost 3.000 vedete che la pagina localhost 3.000 ci fornisce esattamente la stessa pagina che vedevamo prima e ci accorgiamo che è la stessa pagina perché qui riceviamo una serie di get dal nostro browser che sono tutti che sono il file javascript tutti i nostri file javascript la favicon che in questo caso non esiste infatti da 404 e quant'altro quindi quando abbiamo premuto invio qui abbiamo ricevuto una serie di richieste per tutte le risorse che sono caricate espressamente e fornite espressamente da questo server e l'applicazione esattamente come prima funziona in maniera analoga a quanto vi ho appena mostrato noi però in questo momento come vedete dalla barra degli indirizzi non stiamo più fornendo l'applicazione dal nostro computer dal nostro desktop ma abbiamo un server che pubblica queste pagine questo avere un server che pubblica le pagine porta con sé alcuni vantaggi da un punto di vista anche del codice e il primo vantaggio che vorrei mostrarvi che vorremmo quindi la prima modifica che facciamo alla nostra applicazione è dovuta e legata al fatto che adesso avendo queste pagine HTML fornite da un server possiamo utilizzare i moduli e quindi possiamo importare ed esportare funzioni oggetti classi da un file JavaScript a un altro quindi quello che andremo a fare adesso è chiudere questo server punto JavaScript che non ci servirà più essenzialmente e andare ad aprire la nostra applicazione client la prima cosa che appunto facciamo è rimpiazzare l'attuale passaggio di informazioni tra i file JavaScript dalla modalità diciamo classica che è quella di avere tutti i file JavaScript inseriti come script nel file HTML a quella legata ai moduli e all'import ripeto modalità che possiamo avere solo perché adesso queste pagine sono fornite da un server e non sono più lette direttamente dal desktop o dalla cartella in cui il file index HTML si trovava dunque come facciamo a passare da questa impostazione all'impostazione moduli e che cosa vuol dire passare all'impostazione moduli passare all'impostazione moduli vuol dire per esempio che noi qui abbiamo bisogno di app e quindi scriveremo import app from punto barra app punto javascript cioè importiamo questa classe app il suo costruttore in particolare in questo caso quindi l'intera classe con i suoi metodi da il file che lo contiene quindi facciamo questa modifica per tutti i file e vedete che io continuo a tenere il server acceso proprio perché queste modifiche sono e il server riparte quando ci sono queste modifiche perché queste modifiche ormai sono in file che sono forniti dal nostro server quindi import app a questo punto apriamo le tutte tanto ci servono un momento non ci serve import app fatemi aprire main l'abbiamo già modificato andiamo a dire che filtri e devi importare direi filtri probabilmente non deve importare niente ma deve in realtà esportare se stesso export default filters quindi esportiamo filter come modulo di default esportiamo l'intera classe in questo caso ricordate la differenza si potevano esportare dei moduli per nome o degli oggetti o delle funzioni per nome quindi solo alcuni oppure si poteva esportare tutto con un unico export di default senza nome in un certo caso in un certo senso questo è il nostro export senza nome di default perché esportiamo tutto quindi esportiamo filter e in esami esportiamo export come prima default exam e anche qui senza virgola anche qui non ci serve importare niente perché exam è autocontenuto filter allo stesso modo non non utilizza nessuna dipendenza non ha nessuna dipendenza verso altri file javascript che abbiamo creato noi exam manager deve invece ha bisogno di exam quindi deve importare exam from come prima aperta virgoletta punto barra exam punto javascript è importante l'estensione punto javascript altrimenti non funziona e allo stesso modo deve esportare se stesso quindi export exam manager export default exam manager e infine app deve ovviamente esportare se stessa perché è utilizzata da main punto javascript il quindi esportiamo app e poi app viene importata qui se non l'esportiamo non possiamo neanche importarla e app è quella che ha bisogno di più import di tutti perché essenzialmente ha legami con tutte le altre classi essendo il punto di partenza principale della nostra applicazione quindi deve importare per esempio exam manager come prima from exam manager punto js quindi il nome del file poi deve importare filters perché inizializza un oggetto della classe filters nel suo costruttore filters punto javascript e infine dato che vedete inizializza exam manager quindi ha bisogno di avere accesso exam manager inizializza filters e in fondo se non ricordo male esatto crea anche un oggetto di tipo esame quindi ha bisogno di importare esame from exam punto javascript quindi siamo passati ai moduli passare ai moduli vuol anche dire che possiamo cancellare tutti questi import diciamo nel file html dobbiamo solo lasciare main che è il punto d'ingresso l'unico collegamento stavolta su serio non solo concettualmente ma diventa l'unico collegamento tra il mondo html e il mondo javascript che abbiamo creato e abbiamo anche bisogno di tenere moment perché non possiamo importarlo come modulo in questa versione non è possibile importarla nella versione che abbiamo scaricato non si può importare come modulo ora se noi salviamo abbiamo salvato e aggiorniamo questa pagina vedete che la tabella non si riempie e se andiamo a vedere per quale motivo la tabella non si riempie quindi nella console ci dice che non possiamo usare import fuori da un modulo in main.js riga 3 ora se noi andiamo a vedere cosa c'è in main.js riga 3 ovviamente c'è l'import allora perché ci da questo errore perché gli import e gli export per funzionare hanno due requisiti uno le pagine i file javascript in questo caso devono essere forniti da un server per quanto riguarda la parte client side e due tutto deve essere all'interno di un modulo quindi app deve esportarsi e qualcun altro deve importarla e così via main fa quello che fa per esempio exam manager importa exam poi exam manager si esporta a sua volta ma importa exam quindi non ha grossi problemi o grossi o grosse sviste questo errore cosa vuol dire vuol dire però main ha la caratteristica a differenza delle altre che è l'unico file che viene importato da l'html e quindi dobbiamo dato che da main in poi utilizziamo i moduli incluso main perché importiamo da un altro file dobbiamo dire che questo script non è uno script normale come quello di moment ma in questo script ci saranno dei moduli vogliamo utilizzare l'import e l'export quindi vogliamo utilizzare i moduli come facciamo a dirlo lo diciamo con la proprietà type module quindi dicendo all'html che questo script che ha questo src che è caricato con defer e di tipo modulo stiamo dicendo che in main da main in poi quantomeno in main possiamo importare ed esportare oggetti e che alla pagina html e al browser è lecito farlo pertanto se noi adesso aggiorniamo vedete che l'errore sparisce e il nostro sito inizia funziona come ha funzionato finora ora ovviamente abbiamo fatto dei cambiamenti diciamo così minimi perché siamo passati dall'import di script all'import dei moduli ma questa applicazione web questo client web continua a essere statica e continua a essere staccata dai dati del server come abbiamo visto nella video lezione per far comunicare questo con il server rest dobbiamo utilizzare le fetch API che saranno esemplificate nel prossimo video